Benvenuti su Ultimissima. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Ti piace Francesca, eh? Amici 23, Todaro lo pizzica così, aria tesissima in studio. Ti piace Francesca, eh? È l'accusa lanciata da Raimondo Todaro in studio, creando un'atmosfera di grande tensione durante l'ultimo episodio di Amici 23. Durante il serale di Amici, gli insegnanti sono suddivisi in tre squadre, con frequenti scontri sia personali che professionali, culminati nel guanto d'oro, simbolo della sfida tra professori. Rudy Zerbi, osservando Francesca Tocca, ha scatenato nuovamente la gelosia di Raimondo Todaro, noto per essere particolarmente protettivo nei confronti della moglie. Todaro, insegnante di danza latino e marito di Francesca, ha già mostrato segni di gelosia in passato, specie durante le performance più sensuali di lei. L'ultimo episodio ha visto una riaccensione di questa gelosia, con Todaro che questa volta ha puntato il dito contro Rudy Zerbi, collega e altro insegnante di carattere. Durante l'introduzione del guanto d'oro, portato in scena da Francesca, Zerbi non è riuscito a nascondere il suo interesse per la ballerina, cosa notata da Todaro. Todaro ha accusato Zerbi di fingere interesse per il guanto d'oro, mentre in realtà era concentrato su Francesca, impressione condivisa anche da Maria De Filippi. Nonostante la tensione iniziale, la situazione si è poi calmata, ma il rischio di futuri scontri rimane alto nelle prossime puntate di Amici. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news.